Un'operazione importante è che ha attivato immediatamente la macchina organizzativa delle istituzioni, Prefettura in Primis. Sono sbarcati 261 migranti soltanto nelle scorse ore nel porto di Bari. Operazioni di sistemazione e accoglienza concluse coinvolgendo in Puglia, Bari, Brindisi e Lecce ma anche le altre regioni italiane. Dobbiamo distinguere, sono arrivati circa più di 60 minori non accompagnati che avevano più di 14 anni e questi sono stati accolti a Brindisi. Poi sono arrivati invece alcuni minori, diciamo 6 ma ce n'è ancora qualcuno che è ricoverato in ospedale, che hanno meno di 14 anni e i quali sono stati accolti dal comune di Bari. Cioè il comune di Bari ha messo a disposizione delle strutture di accoglienza per minori e anche per ragazzine perché insomma alcune di queste erano ragazzine e quindi non potevano andare nella struttura di Brindisi e quindi queste sono state accolte a cura del comune di Bari. Che ringrazio perché ha dato la massima disponibilità e ieri era con noi al porto per l'assessore Bottalico per proprio darci una mano in tutto questo.